Sono Collantona Raffaella, ho 30 anni e vengo dalla diocesi di Ariano Erpino e Lacedonia, in provincia di Avellino. Sono qui come una delegata e faccio parte della pastorale familiare. Da questo convegno mi aspetto sicuramente un grandissimo cambiamento e mi sento responsabile di questo. Vorrei portare l'annuncio di un'umanità nuova che deve riprendere, come ci ha ricordato Papa Francesco, il senso dell'umiltà e della bontà, di riportare un po' l'amore nella nostra vita sociale.